Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone subtropicale si rinforza sull'Europa, abbracciando tutto il nostro stivale e garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. La massa calda africana risalita porterà i valori termici ad uno costante aumento e si potranno raggiungere anche i 33-34 gradi, specialmente sulle pianure interne che non beneficiano dell'azione miticatrice delle brezze marine lungo le coste. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni. per martedì 13 giugno. Al mattino cielo soleggiato ovunque. Nel pomeriggio cielo soleggiato salvo innocui e blandi annuvolamenti sulle aree appenniniche lucane, ma senza ombra di fenomeni. Caldo intenso durante le ore centrali della giornata, specialmente su tavoliere, bat, materano e metapontino. Brezze mitigatrici sulle coste con temperature più contenute, soprattutto sui litorali adriatici. Le temperature quindi risulteranno in aumento nei valori massimi, mentre le minime saranno miti. venti deboli settentrionali a regime di brezza lungo le coste, mari da poco mossi a quasi calmi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Vito Spagnuolo, per aver immortalato questo spettacolare fulmine che si abbatte sulle campagne tra Palese e Bitonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.